Gli otto violini del pacchetto Dimension Strings sono otto violini reali che possiamo utilizzare tutti e otto insieme o in combinazioni a piacere. I presets di Vienna Symphonic Library sono pronti all'uso sia come strumenti singoli, violino 1, 2, 3, 4, eccetera, a leggio, desk 1, 2, 3, 4, a gruppi, fila dispari o fila pari, oppure è possibile caricare i presets con tutti e gli otto violini all'interno della stessa cella. Grazie all'environment di Logic Pro possiamo organizzare un template personalizzato per utilizzare a piacere e in base ad ogni esigenza personale gli otto violini, le sei violi, i sei violoncelli e i quattro contrabbassi del pacchetto Dimension Strings. Per questa dimostrazione ho utilizzato Logic Pro, Vienna Ensemble Pro, Vienna Instruments Pro e gli otto violini con i presets di default di Vienna del pacchetto Dimension Strings. Ad ogni violino ho assegnato un canale MIDI differente, da 1 a 8. Creo un nuovo progetto con un software Instruments multitimbrico e con i tasti Command 8 entro nell'environment. Creo due Multi Instruments MIDI Attivo i canali MIDI per ogni Multi Instruments e cambio l'icona per tutti i canali MIDI. Nei primi otto canali dei software Instruments scrivo il nome corrispondente degli otto violini. Creo l'oggetto Channel Splitter e collego i primi otto canali ai software Instruments. Collego il primo Multi Instruments al Channel Splitter. In questo modo tutti i canali MIDI vengono inviati al Channel Splitter e di conseguenza ai software Instruments. I canali MIDI saranno corrispondenti. Il canale 1 sarà mandato al canale MIDI 1, il 2 al 2, il 3 al 3 e così via. Ora sostituisco le tracce Software Instruments con quelle MIDI del Multi Instruments. Scriverò poi il nome ad ogni traccia in modo da identificare velocemente che violino o gruppo di violini si fa riferimento. Scriverò poi il nome ad ogni traccia in modo da identificare velocemente che violino o gruppo di violini si fa riferimento. Ora rientro nell'Environment e con l'oggetto Transform creo le condizioni per modificare i canali MIDI in arrivo per trasformarli in altri canali MIDI. Dopo questa trasformazione saranno inviati al Channel Splitter che a sua volta li manderà al software Instruments che dopo collegherò a Vienna Ensemble Pro. Questo sistema mi permetterà poi di utilizzare una traccia MIDI e mandarla a più canali MIDI diversi. Grazie a tutti. Il primo cavo virtuale di collegamento mi permette di utilizzare le prime otto tracce MIDI corrispondenti a otto canali MIDI differenti. Mentre gli otto collegamenti appena realizzati mi permettono di mandare gli eventi MIDI contenuti in un'unica traccia MIDI a tutti e otto i canali MIDI. Ora creo altri otto oggetti Transform che rappresentano i leggi per cui tramite queste tracce MIDI sarà possibile mandare uno o più eventi MIDI a due violini alla volta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I Multi Instruments gestiscono fino a 16 cavi virtuali, anche se non utilizziamo tutti i 16 canali MIDI. Ecco perché per poter organizzare altri raggruppamenti è necessario utilizzare un secondo Multi Instruments. Esattamente come prima, creo tanti oggetti Transform per quanti raggruppamenti voglio fare. Grazie a tutti. Apro il plugin Vienna Ensemble Pro Server per collegare Logic Pro a Vienna Ensemble Pro. In Vienna Ensemble Pro apro Vienna Instruments Pro, così creo il mio primo canale MIDI corrispondente al primo violino. Proseguo creando gli altri sette canali corrispondenti agli altri sette violini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.